Grazie alla camera iperbarica dell'ospedale militare di Taranto è stata salvata la vita ad una donna novantenne di Cerdino San Marco, vicino a Brindisi, in coma per avvelenamento da monossido di carbonio. Il servizio di medicina iperbarica del centro ospedaliero militare di Taranto è stato allertato dal pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per effettuare un trattamento di ossigenoterapia iperbarica in emergenza, proprio in favore della sfortunata novantenne. Dopo le prime cure e la stabilizzazione della paziente è stato attivato il team di personale reperibile del nosocomio militare, composto da personale sanitario, subacqueo e tecnico della Marina Militare, ma anche il rianimatore iperbarico della ASL di Taranto. E così è stato possibile in tempi rapidi, dopo l'effettuazione degli esami diagnostici preliminari opportuni, il trasferimento della paziente da Brindisi a Taranto e quindi l'effettuazione del trattamento richiesto. È stato fatto un ciclo di sedute da ripetere nei prossimi giorni nella camera iperbarica. La novantenne è salva. I trattamenti in ossigenoterapia iperbarica, dice il direttore dell'ospedale militare di Taranto, Vincenzo Mascellaro, si prefigono lo scopo non solo di scongiurare i rischi immediati derivanti dall'avvelenamento, ma anche il pericolo di sequele neurologiche a distanza. Un esempio rappresentato dalla cosiddetta sindrome post-intervallare, caratterizzata da gravi danni cerebrali permanenti, disorientamento e amnesia, pericolosissimo quadro che può instaurarsi dai 2 ai 40 giorni dopo l'esposizione al monossido di carbonio.